Buonasera, buonasera, benvenuti alla ventesima puntata di Cabina Stampa Sport, un parterre de roi veramente bello, importante, ma prima di presentare i nostri ospiti, la linea alla nostra bellissima Marta che ci introdurrà in questa ventesima puntata, leggendovi che cosa è successo domenica e che cosa succederà domenica prossima. Buonasera, questa trasmissione è la trasmissione sportiva di Cronaca Gubina e va in onda tutti i mercoledì sera su cronacaugubina.it. Vi ricordiamo che la trasmissione contiene brevi messaggi pubblicitari e che siamo ospiti all'autolavaggio San Marco di Andrea Bettelli, che ringraziamo assieme a Giuliano Pasticceria per il supporto tecnico. Continua la corsa della capolista, il Gubbio ha vinto 3-1 a Spoleto sotto il Voluntas, legittimando al cor di più il primato in classifica, la squadra allenata da Giuseppe Maggi, è stata seguita a Spoleto da circa 600 tifosi rosso-blu, giunti al comunale con un treno speciale, due pullman e molte automobili private. Grande gioia alla fine della partita, corri celaioli sugli spalti e corri a favore del presidente Sauro Notari, grande protagonista di questa stagione sportiva, che speriamo possa colonarsi con una promozione in Lega Pro. Ma ora passiamo ai risultati. Spoleto-Gubbio 1-3, Ghiviziano-Borgo, Città di Castello 0-0, Gualdo-Casacastal da Gavorrano 0-1, Massese-Colligiana 2-1, Pianese-Montecatini 1-1, Poggi-Bonsi-Viareggio 0-0, San Giovannese-Città di Foligno 3-3, Scandicci-Montemurlo 1-1, Sansepolco-Ponzacco 1-2. E ora la classifica. Il Gubbio è in prima posizione con 62 punti, seguito dal Gavorrano 61, Montecatini 55, Poggi-Bonsi 51, Ghiviziano 48, Città di Foligno 45, San Giovannese-Montemurlo 44, Colligiana-Viareggio 42, Ponzacco 41, Città di Castello 40, Pianese 37, Scandicci 29, Sansepolcro 28, Massese 28, Gualdo-Casacastal da 20 e Spoleto 17. L'applauso? Bene, allora diciamo subito che questa sera, come avete visto, ci sono tanti ospiti. Iniziamo, ogni volta che dirò il nome, voglio un applauso sempre più forte. Dalla mia destra, Nicola Polverini, tecnico dei giovanissimi del Gubbio che hanno vinto il campionato, se non vado errato. Complimenti mister. Adesso l'applauso potete saltarlo perché c'è il nostro commentatore e il nostro opinionista Emanuele Grilli. Marta, l'avete già conosciuta, alla mia sinistra il bomber, Daniele Ferri Marini. Non ci hanno dato altro, c'è anche il capitano, no anzi il vicecapitano, Marco Croce. E due campioni del futuro con Giovanni Cordella, attaccante, nove gol della Juniores. E Lorenzo Piergentili, San Giorgiaro tra l'altro, di Gubbio con cinque gol. Ho detto San Giorgiaro perché questa sera, dopo quella di Sant'Ubaldo, dopo quella di Sant'Antonio, finalmente entriamo nel vivo e abbiamo una splendida, oserei dire, meravigliosa, forse incomparabile, ma addirittura celestiale, brocca, di San Giorgio. Complimenti a Valentina che l'ha prodotta con le sue manine. E andiamo subito a parlare di calcio, a parte gli scherzi, noi qui ci divertiamo molto con il microfono che lo passeremo a Lorenzo Piergentili e a Giovanni Cordella, che ci devono raccontare un po' la loro esperienza e Cordella anche in prima squadra, se non vado errato. Come sta andando questa stagione, se siete soddisfatti di quanto è stato fatto e che cosa sperate nel vostro futuro? Penso che questa stagione sta andando comunque nei migliori dei modi. Siamo secondi a un punto dalla prima e sabato insomma ci giochiamo il campionato e giochiamo contro la terza che è un punto sotto di noi e speriamo una sconfitta del Poggi Bonzi che ci possa permettere di arrivare ai primi. Comunque speriamo sabato di vincere e tocca sperare sul Poggi Bonzi che pareggio che perda e sperando anche di vincere il sabato a Scandizzi, comunque sarà una partita molto difficile e importante. Bene, un applauso, applauso, applauso a tutti. Allora invece, mister Polverini, credo che il bilancio sia oltremodo soddisfacente dal suo punto di vista. Buonasera a tutti. Sì, la stagione era cominciata con l'incertezza della categoria che saremmo andati a fare perché la preparazione è cominciata sperando di fare un campionato nazionale poi è arrivata la sentenza che ha reggubbio retrocesso, quindi il campionato regionale e da un punto di vista morale i ragazzi un po' l'hanno accusato. Poi sono stati bravi a capire l'importanza che avrebbe avuto anche quest'annata quindi si sono messi di impegno, si sono allenati, si stanno allenando tuttora con applicazione e siamo arrivati a due giornate dalla fine con sette punti di vantaggio quindi abbiamo vinto matematicamente il campionato. Parentesi che riapriremo più avanti nelle varie tranche della trasmissione per ora chiusa, ma semplicemente socchiusa sul calcio giovanile e iniziamo invece a parlare della prima squadra. La prima squadra che a Spoleto ha sofferto un po', così dicono quelli di Spoleto secondo me non è vero assolutamente e ha stravinto, stradominato la partita contro la Voluntas vorrei il commento, diciamo tecnico come si fa per dire perché di calcio non capisce niente di Emanuele Grieve. No, devo dire comunque che vedendo i primi minuti non è stata una partita facilissima perché comunque ho visto un gubbio che fin dall'inizio voleva imporre subito il proprio gioco e andare subito in vantaggio e nei primi minuti forse ho visto un po' di troppa frettolosità se così si può dire, volevamo fare tutte subito e senza magari pensare ai nostri avversari che comunque hanno fatto la loro onesta partita considerando che sono ultimi in classifica hanno fatto quello che potevano fare. Dopo alcuni minuti di incertezza culminati dal gol dell'1-0 che secondo me è stata l'unica occasione vera creata dai padroni di casa siamo riusciti ad uscire di più e a essere più concreti e a concretizzare le azioni offensive che abbiamo fatto siamo stati bravi a segnare l'1-1 prima della fine del primo tempo e questa è stata una cosa molto importante perché così abbiamo potuto giocare tutto il secondo tempo con l'obiettivo solo di andare in vantaggio e non di dover pareggiare alla fine diciamo che sono contati di più oltre alla grinta e ai valori tecnici cioè diciamo sia la grinta che i valori tecnici e il Gubb alla fine mi è piaciuto nel complesso e ha meritato completamente la vittoria. Aspettavo l'applauso ma avete fatto bene a non farlo perché insomma facciamoglielo l'applauso Daniele Ferri Marini Allora Daniele ci siamo sentiti mediamente una volta una settimana sì una settimana no perché continui a segnare io ti auguro con tutti gli scongiuri del caso di non fermarti più ma il tuo record personale se non vado errato era di 14 quindi lo hai eguagliato ma a inizio stagione avevi detto almeno di arrivare a quello di 12 che era il bottino che avevi conquistato lo scorso anno a Macerata le cose stanno andando bene ci sono ancora quattro partite per cercare di arrotondare ancora meglio questo score che è già davvero importante e ecco la prima domanda che ti faccio è questa di tutti i gol che hai segnato quest'anno qual è quello che ti è piaciuto a te di più? quello che faccio domenica prossima allora detta così sembra che lui è molto perspicace e io faccio la figura dell'anziano in realtà c'era un mese d'accordo prima ma a parte perché se adesso lui comincia a fare lo spiritoso io comincio a menare no a parte gli scherzi il più difficile qual è stato? è stato... ci sono tanti difficili però quello che ho sentito di più forse col Sansepolcro all'andata il rigore eravamo 1-1 e quello l'ho sentito perché mi conoscevano tutti però è andata bene che ho fatto gol quello è stato secondo me il più difficile qual è il difensore finora che hai incontrato abbiamo giocato con tutte le squadre stiamo nel girone di ritorno quello che sì è anche uno tosto è uno che si fa sentire ma corretto in definitiva il difensore più bravo più tecnicamente quello che insomma che ti fa penare un po' di più chi è? ma di noi o di Avversari? ne ho trovati diversi molto bravi mi è piaciuto molto il terzino destro del Gualdo non mi ricordo come si chiama però e il terzino destro anche del Givizzano che erano vecchi diciamo c'erano 25-26 anni non erano under dobbiamo quasi andare in pausa una sola battuta per Marco Croce non ti sei stancato di giocare in Serie D? ma no è il secondo anno che ci gioco quindi stancato no però spero di tornare in Lega Pro il prima possibile con il Gubbio e allora andiamo dal direttore